Buongiorno a tutti, siamo all'ultimo appuntamento di questo ciclo di incontri sull'open science, quindi anche oggi siamo con Alessandro Pierno, che è responsabile per le pubblicazioni della Firenze University Press e anche coinvolto all'interno del monitoraggio delle riviste per l'archivio DohaJ. Il tema di oggi è legato agli open data e fair data, soprattutto quindi la preparazione dei data. Grazie Alessandro, allora ti lascio la parola. Grazie a voi, spero mi sentiate bene. Come anticipato appunto da Yolanda, oggi tratteremo i dati, come rendere appunto i dati fair. Piccolo riassunto della puntata precedente, che cosa sono appunto innanzitutto i dati di ricerca? Sono tutte le informazioni, secondo questa definizione dell'University of Leeds dell'anno scorso, ogni informazione che è stata raccolta, osservata, generata o creata per validare un risultato scientifico. All'interno di quello che è il percorso, diciamo, per una piena attuazione e realizzazione dell'open science, siamo nella fase appunto di raccorta dei dati e di resa di questi dati fair o addirittura open, che come vedremo sono due concetti diversi. Tutto questo fa parte di uno sforzo più ampio che va nella direzione di portare alla luce elementi presenti, diciamo, da sempre nei processi di produzione della ricerca ma che non facilmente sono portati alla luce, come appunto nel caso di oggi dei research data. I dati di ricerca sono quindi dati, come abbiamo detto la volta scorsa parlando di data management plan, sono dati provenienti da osservazioni in tempo reale, quindi magari non riproducibili, come ad esempio quello relativamente alle immagini neurologiche, dati sperimentali di laboratorio, di simulazione o dati derivati o comunque provenienti ad esempio da banche dati e sequenzialmente ad esempio di DNA. Sono dati di ricerca, i file Word, i fogli Excel, che comunemente utilizziamo nelle nostre attività di ricerca, appunti di laboratorio, diari, nel senso che noi parliamo naturalmente di tipologie di dati di ricerca parlando quasi esclusivamente di dati digitali, di oggetti digitali, ma sono dati di ricerca anche appunti scritti a mano durante, diciamo, un percorso di indagini. Quindi naturalmente questionari, trascrizioni, registrazioni, questionari, database che raccolgono immagini, le immagini stesse, poi file video e audio. Sono dati di ricerca anche le metodologie e i flussi di lavoro utilizzati durante il processo. Come devono essere i dati? I dati devono essere appunto FAIR, ossia findable, accessible, interoperable and reusable. Devono quindi essere reperibili, devono essere accessibili, interoperabili tra loro e riutilizzabili. I dati dovrebbero essere resi FAIR durante tutto il processo di ricerca. Attenzione che non necessariamente dati FAIR sono dati che dobbiamo pubblicare o che dobbiamo condividere, perché i dati FAIR non sono la stessa cosa degli open data, non sono la stessa cosa dei dati aperti. I dati aperti sono dati che noi possiamo, chiunque, può utilizzare, scaricare, modificare, condividere per qualsiasi motivo a patto che appunto si attribuisca alla provenienza di questi dati e se ne conservi l'apertura. Invece i dati FAIR sono dati che seguono una serie di principi, detti appunto principi FAIR, una serie di best practice che diano la possibilità di accedere, condividere e utilizzare questi dati nel rispetto di determinate restrizioni che possono essere di tipo etico, di tipo legale o di tipo contrattuale, come ad esempio i dati personali, quelli anagrafici, oppure dati coperti da proprietà intellettuale o dati protetti da copyright, come ad esempio nel caso che è molto diffuso dei brevetti. In questo caso i dati devono essere protetti. E come facciamo a renderli FAIR? Realizzando il condividendo, come abbiamo visto la settimana scorsa per quanto riguarda la realizzazione di un piano di descrizione dei dati, facendo un'accurata descrizione dei dati, perché è così che i ricercatori potranno poi eventualmente chiedere il permesso, un'autorizzazione per poter accedere ai dati per scopi che naturalmente sono nel rispetto appunto della normativa vigente. Il principio attualmente vigente in Europa nell'ambito dei prodotti e dei progetti finanziati dalla Commissione europea è appunto quello di tenere fin quando è possibile il più aperti possibili i dati e tenerli invece chiusi esclusivamente quando è necessario. Appunto dati FAIR. Si tratta non di standard, ma di una serie di suggerimenti, una serie di principi, più o meno quelli base, li vedremo, sono una quindicina, più o meno i principi e i suggerimenti, per preparare i dati in maniera tale che siano adatti al loro riutilizzo nell'ottica dell'open science. Abbiamo visto la volta scorsa le molteplici ragioni per cui vale la pena realizzare un data management plan, non vale la pena gestire i dati di ricerca, non posso ritornare su tutti gli elementi, ma prendere dei dati FAIR significa rendere i dati di elevata qualità e soprattutto massimizzare l'impatto della vostra ricerca. Oltre a tutti gli elementi di cui abbiamo parlato la volta scorsa, relativamente alla semplice conservazione di questi dati, alla reperibilità dei vostri stessi dati, oltre che dare o meno la possibilità ai vostri colleghi di accedere a queste informazioni. I ricercatori sono interessati a rendere i loro dati FAIR, perché rendono così i loro dati ad esempio citabili e l'impatto delle loro stesse ricerche sarà un impatto maggiore rispetto alla pubblicazione di un singolo output di ricerca, ossia dell'articolo di ricerca. Un articolo che è soltanto un surrogato, uno screenshot, un elemento finale, direi quasi limitato, di un processo che invece è molto più ampio, molto più complesso e richiede molto più tempo. Sono interessati naturalmente i publisher, gli editori, a ricevere set di FAIR data, perché questo sicuramente migliorerà anche le procedure di referaggio degli articoli. Quando abbiamo parlato di pubblicare in open access delle procedure di peer review, è chiaro che avere la possibilità per un reviewer, per un revisore, di poter accedere ai dati a cui fa riferimento l'articolo, per poter analizzare la bontà, l'integrità, la trasparenza, è un elemento molto interessante per i publisher. È utile naturalmente per i finanziatori, naturalmente la possibilità di poter condividere dei dati con altri ricercatori, porterà, una volta che i FAIR data saranno universali, porterà ad un risparmio enorme nei termini di investimenti nella ricerca, perché eviterà la duplicazione di dati simili e l'avvio di ricerca e rapporto di dati, perché sarà possibile accedere a dati già presenti. Infatti gli AIP finanziatori richiedono FAIR data nelle loro linee guida, ma sono anche molte università e molti istituti di ricerca che richiedono FAIR data nelle loro policy e open science policies. Naturalmente l'applicazione di principi FAIR dipende molto sia dalla disciplina di afferenza del ricercatore, perché ci sono ambiti disciplinari dove la catalogazione dei dati, ad esempio, pensando al campo archeologico, ha degli standard già abbastanza specifici, e poi dipende anche dal processo di ricerca di un singolo ricercatore. Si potrebbe parlare di una sorta di FAIRification dei dati, che in italiano appunto è così, FAIRificazione, però diciamo dà un po' il senso dell'incontro di oggi, della discussione di oggi su come rendere e produrre FAIR data. una FAIRificazione di base che potremmo immaginare così, attraverso un elenco, che parta da un'attenzione alla documentazione dei dati, che rappresenta tutto ciò che serve per rendere questi dati comprensibili ad altri, ai metadati, così i dati possono essere facilmente reperibili, al formato dei dati, sia, vedremo, di formati che non devono essere proprietari o criptati, ma dati che possono essere combinati per l'interoperabilità con altri dati, e soprattutto essere letti da macchine. L'indicazione legata all'accesso, quindi così si può accedere a questi dati, identificatori persistenti, e licenze, di cui appunto si parlava poco prima di iniziare. Partiamo dalla documentazione, per questo processo di FAIRificazione di base dei dati. Immaginiamo un progetto condiviso su un drive, su una piattaforma, tra i vari ricercatori che collaborano allo stesso progetto X, la documentazione è quello che praticamente descrive il contesto che ha portato alla creazione, alla raccolta di questi dati, al fine di renderli comprensibili agli altri. All'interno della cartella progetto avremo la proposta fatta per magari ottenere il finanziamento alla ricerca, avremo la cartella dove si troverà il data management plan e le versioni di questo documento, in itinere, come abbiamo visto la volta scorsa. Avremo la cartella delle pubblicazioni, cioè degli output di questa ricerca, e poi la cartella dei dati. All'interno della cartella dei dati avremo la cartella, appunto, della documentazione, all'interno dei quali ci sarà la cartella dei metodi che abbiamo utilizzato per raccogliere i dati della nostra ricerca, gli strumenti, i software, i metadati utilizzati, e i processi di ricerca. Relativamente, ad esempio, ai processi di ricerca, sono informazioni relative, ad esempio, a domande come chi ha lavorato con questi dati, i nomi delle persone che hanno raccorto, o, come dire, creato, o modificato questi dati, come sono stati utilizzati, o come, ad esempio, sono stati messi in relazione con gli altri dati del nostro progetto o con le stesse pubblicazioni. Quindi, ho utilizzato questi dati per pubblicare questo articolo all'interno di questa rivista. Un secondo elemento per rendere fair i nostri dati è l'attenzione ai metadati. Questa è una foto, questa è Samuele, mio figlio. Immaginate la quantità di metadati che può avere una semplice immagine, un titolo, una tipologia del formato di questo dato, la data in cui praticamente abbiamo scattato la foto, non solo, ma anche lo strumento con cui praticamente è venuto il telefonino, delle keywords, dove ero, in che posizione ero geograficamente quando abbiamo festeggiato il compleanno del bimbo a Pistoia. I dati fair sono dati, quindi, che seguono tutto il processo. L'idea alla base di un processo, di un adeguato processo di verificazione è sicuramente quello di produrre metadati di qualità. Metadati di qualità che rendono reperibili, interoperabili, utilizzabili, gli stessi dati. Esistono degli standard. Sicuramente lo standard più universalmente seguito è quello Dublin Core, che, come dire, oltre ad una serie di campi di descrizione, quindi dal titolo, l'autore, la data, la copertura, la gestione di diritti, si focalizza su tre elementi standard che dovrebbero sempre rappresentare e descrivere i vostri dati di ricerca, cioè il titolo, l'autore e il soggetto. abbiamo poi altri standard come quello della Data Documentation Initiative che appunto aggiunge allo standard Dublin Core dei dati come la copertura geografica, termini e condizioni appunto di reperimento dei metadati e il periodo in cui questi metadati, come dire, periodo di tempo non legato ad una data specifica come scattare una foto perché questo rientra in una sorta di iniziativa legata soprattutto all'ambito delle scienze umane e sociali, parliamo di standard di metadati. Gli standard naturalmente sono stabiliti in base alla vostra disciplina, sono stabiliti in base a quelli che sono le best practices editoriali internazionali con cui appunto si descrivono i metadati del vostro ambito di ricerca e sono quelli comunemente utilizzati anche dai vostri colleghi. Qualora i vostri dati non abbiano degli standard allora dovrete in un certo senso descriverli nel modo in cui voi ritenete migliore per renderli reperibili per renderli accessibili e renderli diciamo riutilizzabili. Un altro elemento è quello relativo al formato dei vostri dati formato che deve essere un standard per poter garantire l'interoperabilità e il riutilizzo degli stessi dati formati non proprietari quindi ampiamente diffusi spesso i formati sono inizialmente proprietari stesso come dire pdf ormai largamente utilizzato inizialmente fu rilasciato come proprietario e poi largamente diffuso con licenze non proprietarie naturalmente non criptate sono i formati che questi che vedete nell'elenco che dovrebbero raccogliere la maggior parte delle tipologie di dati di dataset utilizzati per i vostri processi di ricerca a un certo punto dovremo chiederci nel processo di verification dei dati se vogliamo rendere questi dati quindi accessibili e rendiamo l'accesso ai dati avendo la consapevolezza come abbiamo detto prima che non tutti i dati faccio ad esempio riferimento a quelli provenienti da indagini cliniche indagini che analisi di pazienti sono dati che naturalmente non possono essere pubblicati nessun paziente vuol condividere fondamentalmente eventuali sue patologie con diciamo con una comunità senza aver dato autorizzazione in tal senso e quindi nel caso in cui abbiamo open data noi possiamo chiaramente riutilizzare questi dati e condividerli promuoverli e utilizzarli per qualsiasi scopo nel caso in cui abbiamo dati invece protetti l'unica alternativa è renderli fair cioè descriverli in maniera tale da poterli reperire indicare quindi di nuovo la tipologia di dato di ricerca l'autore o il creatore di questi dati e le indicazioni dell'indirizzo email di un contatto per poter chiedere l'autorizzazione all'accesso e al tipo di utilizzo che per questi dati protetti io ho necessità un altro elemento fondamentale per rendere i dati fail è quello legato alla necessità di avere degli identificatori persistenti perché sono quelli che rendono reperibili e accessibile il nostro dataset un identificatore persistente è di fatto un riferimento permanente quindi di lunga durata solitamente viene garantito per almeno dieci anni all'interno di un archivio e con questo faccio riferimento a identificatori permanenti ad esempio dati da banche dati o archivi come porti o logs è un riferimento di lunga durata che identifica un file identifica un documento una pagina web o un altro qualsiasi oggetto digitale diciamo che quando si parla di identificatori persistenti si fa riferimento a come dire a elementi a come dire riferimenti azionabili in rete attivabili collegando ad un browser web la fonte identificata è una componente fondamentale quella degli identificatori persistenti perché garantisce attraverso l'interoperabilità delle macchine attraverso dei protocolli di comunicazione come il protocollo IPMH per ad esempio gli archivi che vedremo permetterà ad esempio uno sviluppo e la scoperta automatica di dataset anche attraverso l'utilizzo ad esempio dell'intelligenza artificiale tra gli identificativi più persistenti o più diffusi naturalmente abbiamo il DOI che è appunto questo standard affanumerico che è un profisso un suffisso che identifica in alcuni casi il publisher o l'archivio istituzionale il profisso è un suffisso che varia naturalmente assegnato dall'archivio dalla rivista o dal publisher il DOI che è una sorta di codici a barre dell'oggetto digitale si distingue dagli altri standard bibliografici come può essere l'International Standard Book Number o l'ISSN in quanto è appunto azionabile in rete e quindi riesce praticamente a portare a mettere subito l'utente in contatto con la risorsa identificata se il DOI è il codice a barre ad esempio di un articolo di un volume o di una tabella all'interno di un articolo o di un dataset o di questa stessa presentazione l'ORSID è invece il codice a barre dei ricercatori e il codice a barre dei ricercatori perché è un identificativo alfanumerico che serve per identificare in maniera univoca agli scienziati per evitare qualsiasi problema di omonimie tra e quindi attribuire in maniera adeguata un output di ricerca al al ricercatore identificabile e soprattutto la possibilità di poter attivare una serie di elementi legati faccio riferimento soprattutto alla post publication per il review alla possibilità di poter interagire ad esempio facendo un referaggio ad un articolo già pubblicato come ormai molti editori danno questa opzione e la possibilità appunto di poter accedere con un unico identificativo e quindi poter avere permesso di poter commentare quell'articolo revisionarlo perché facente parte della comunità scientifica internazionale oltre al fatto che è un identificativo che ormai accede in maniera integrata a moltissimi progetti moltissime banche dati ad esempio per quanto riguarda anche le riviste della stessa Firenze University Press non è più necessario registrarsi ad una nuova rivista con i propri dati se si è in possesso del codice identificativo ORSID l'ultimo passo per rendere i nostri e produrre dati Fair è sicuramente quello legato alla licenza con cui depositiamo e la licenza che assegniamo a questi dataset a questi dati ovviamente le licenze utilizzate per rendere più diffusi e più riutilizzabili più accessibili più open possibili i nostri dati sono le licenze Creative Commons partendo da licenze più open come l'attribution che quindi permette di fatto di utilizzare un dataset per qualsiasi scopo anche per scopi commerciali in qualsiasi modalità realizzando anche delle opere derivate da quel dataset a patto appunto di dare una chiara corretta attribuzione al creatore o al raccoglitore principale di quella banca dati naturalmente poi abbiamo invece licenze Creative Commons più restrittive come questa che ad esempio non dà la possibilità di uno sfruttamento commerciale di un dataset da me depositato in un archivio e neanche la possibilità di realizzare un'opera derivata dalla mia raccolta dal mio database la mia raccolta di dati non è possibile realizzare immagini derivate dall'immagine che io ho depositato come sapete come fu è stato introdotto anche all'inizio di questo ciclo di incontri appunto da Yolanda le articolazioni delle Creative Commons possono essere di diverso tipo in base alla a quanto vogliamo rendere disponibili o meno determinate risorse quando siamo nel depositarle ma sono anche licenze che regolano il modo in cui noi possiamo o meno utilizzare le risorse che prendiamo da un archivio o da un database se riusciamo a seguire questi passi di felificazione possiamo dire di aver reso i nostri dati felici per quanto quando si parla posso interrompere un attimo c'è una domanda che riguarda appunto questo pezzo della presentazione si chiedono se puoi proporre degli esempi un po' più concreti degli esempi proprio di quali sono immagino partendo dai metadati la formattazione perché ci dice appunto Roberta che è un mondo un po' astratto un campo un po' sconosciuto quindi facendo non so degli esempi potrebbero potrebbero essere di aiuto però se vuoi possiamo anche farlo dopo quando hai finito la presentazione adesso magari mi soffermerò un pochino su guardare qualche dataset e vedremo nello specifico una banca dati come ad esempio può essere quali sono gli identificatori persistenti quali sono le licenze collegate a quella banca dati e se eventualmente poi non ho ancora risposto si può provare anche a come dire vedere qualche risorsa proprio in rete grazie grazie perfetto alcune considerazioni su gli open data sui dati in generale sui dati di ricerca e sul diritto d'autore nel senso che questo commissario anche quando sono venuto su ho riportato appunto questo tweet i dati non sono i miei i dati non sono i miei posso raggiungere posso ottenere anche dei premi Nobel per i dati che ho utilizzato per i dati di ricerca che ho utilizzato però i dati veri non sono i miei non hanno un diritto d'autore in realtà è una è come dire una legislazione abbastanza complessa quella relativamente ai diritti d'autore sui dati è abbastanza complessa quando si parla di diritto d'autore sui libri prima della presentazione si parlava di pubblicazioni open access di licenze e copyright con diciamo io io sottolineo sempre che un'opera open access un articolo open access non è tale perché ha delle licenze in creative commons perché la licenza è il modo in cui io posso come dire utilizzare quella risorsa le riviste che e come dire le case editrici che pubblicano monografie che realmente come dire sposano il principio dell'accesso aperto è quando lasciano il copyright agli autori tutte le riviste della Firenze di University Press e anche tutte le monografie open access della Firenze di University Press oggi lasciano il copyright all'autore con una licenza di utilizzo non esclusivo da parte del publisher che non viene più chiamato di fatto editore e quindi questo dà la possibilità all'autore di poter ripubblicare il proprio articolo il proprio volume senza dover chiedere il permesso al publisher che magari rispetto a prima aveva invece precedentemente un trasferimento non di tutti i diritti perché la paternità dell'intellettuale dell'opera è inalienabile però chiedeva un trasferimento di copyright per poter sfruttare commercialmente quindi vendendo il volume vendendo il volume cartaceo vendendo il volume digitale oggi i grandi editori open access lasciano il copyright agli autori la FUP lascia il copyright agli autori non abbiamo un copyright Firenze University Press non abbiamo neanche un copyright della rivista quindi il copyright è lasciato pienamente agli autori per quanto riguarda i dati ok i dati grezzi di una ricerca i dati veri e propri non hanno copyright non sono protetti da copyright potremmo dire che sono dati in pubblico dominio cioè il dato mille metri il dato come dire descrittivo come quello di una misura di un monte o il dato inteso come la lunghezza di una strada non sono come dire concetti su cui esiste un copyright esiste il copyright sull'insieme di queste informazioni sull'insieme e il modo in cui ho organizzato questi dati ossia esiste un diritto sulla banca dati che ha organizzato questi dati di ricerca esistono poi diverse tipologie di livelli di diritto per quanto riguarda ad esempio l'organizzazione di un database non creativo come potrebbe essere un foglio excel una semplice tabella o anche un database più complesso ma non o frutto di un'opera di ingegno nell'organizzazione di questo database allora si parla di diritto sui generis un diritto sui generis che dà la possibilità al creatore di questo database non creativo di poter avere un riconoscimento per quanto riguarda ad esempio la citazione di questo database e soprattutto come dire un diritto sui generis che va a tutelare chi ha realizzato questa database soprattutto per proteggerne gli sforzi economici che ha dovuto sostenere ad esempio per realizzarlo un database un diritto sui generis che dovrebbe durare dieci anni dopo diciamo la morte di chi ha dell'autore di questo database quando poi invece come dire il database diventa un database creativo o frutto di opera di ingegno allora si aggancia sia il diritto sui generis che il diritto d'autore e quindi segue quella che è la normativa vigente sul copyright più genericamente considerato un altro elemento di distinzione è quello legato al fatto che depositare e dare accesso non sono la stessa cosa può sembrare banale però depositare significa caricare un oggetto digitale cioè data setta articoli su una piattaforma ok che permetta di descrivere come abbiamo visto l'oggetto attraverso i metadati e che ne permetta la conservazione dare accesso invece significa quali possibilità do agli altri assegnando una licenza di condividere questi dati attraverso dati che sono aperti distretti quindi limitati chiusi o con un embargo ossia rilendo disponibile soltanto dopo un tot periodo di tempo dopo sei mesi ad esempio quindi io deposito questi dati all'interno di un archivio l'archivio mi deve garantire i principi fail di cui abbiamo parlato un archivio un repository di accesso aperto è quindi un database un archivio virtuale che è creato appunto per raccogliere diffondere e preservare la produzione scientifica come articoli di ricerca monografie e set di dati e renderli disponibili gratuitamente l'azione del deposito del materiale all'interno di un archivio è quasi sempre una forma di autoarchiviazione cioè il ricercatore che ha come dire che deve archiviare questi oggetti abbiamo diversi tipi di archivi abbiamo quelli di tipo tematico ossia come dire orientati a raccogliere output di ricerca di un ambito disciplinare nello specifico ad esempio PAMED raccoglie i dati di ricerca e articoli e dataset di ambito per lo più scientifico medico e diciamo che tutti i ricercatori appartenenti a quell'area tematica quell'area disciplinare indipendentemente dalla loro affiliazione dalla posizione geografica possono depositare i loro dati all'interno di questi archivi poi abbiamo gli archivi istituzionali che sono curati e gestiti solitamente da università o enti di ricerca e che raccolgono i risultati della stessa istituzione in flore che è l'archivio istituzionale dell'Università di Firenze un ricercatore non afferente a un IFI non può depositare i propri dati e poi abbiamo gli archivi generici che appunto come dire raccolgono i set di dati provenienti da ricercatori senza una limitazione di tipo geografico o di affiliazione accettano data set accettano pubblicazioni consentono di collegare ad esempio le pubblicazioni vere e proprie ai relativi dati che hanno sostenuto queste pubblicazioni i più importanti sono sicuramente Zenodo che poi vedremo nello specifico FICShare Open Science Framework e Dread ad ecco come scegliere un archivio questi sono sicuramente quelli più utilizzati quelli che hanno ormai una copertura mondiale sono i più diffusi e conosciuti all'interno della comunità accademica come archivi generici questo è sicuramente un buon punto di partenza sia OpenDoor che appunto la directory degli archivi Open Access sia questo registro di come dire questa banca dati di tutti i data repository esistenti vi volevo far vedere almeno un page di queste due banche dati che permettono anche di poter analizzare varie statistiche relative allo sviluppo degli archivi per paese o per disciplina o per piattaforme utilizzate e poi l'altro invece dice che è un come dire una directory gestita da data site che è la più grossa agenzia europea di assegnazione e gestione di DOI agganciati a dati di ricerca che dà la possibilità di come dire di poter navigare e cercare un database sia per soggetto che per tipologia di contenuto che per paese ovviamente se vogliamo fare una rapida comparazione tra questi che sono i tre più importanti archivi generici di per depositare dati e pubblicazioni vediamo che sono tre archivi che danno multidisciplinari utilizzano il DOI come identificatore persistente l'altra volta appunto ci fu chiesto il limite di grandezza per il dataset è appunto come giustamente disse Loredana di 50 giga e in alcuni casi come nel caso di dryad c'è una tassa da pagare per come dire dati di ricerca che superano i 20 giga e fino all'anno scorso circa si parlava di 120 dollari per pubblicare un per depositare un come dire un dataset superiore ai 20 giga sono tre archivi che permettono l'embargo la proprietà è di organismi di fatto no profit o comunque in parte no profit e a mio avviso la una delle forze uno dei pro di Zenodo che sicuramente in Europa essendo collegato a Open Air ed è gestito appunto dal CERN di Ginevra a livello europeo è sicuramente quello più diffuso e dà la possibilità oltre che avere come dire come proveremo a vedere in un attimo una una maschera semplice di ricerca e come dire avere tutti gli elementi per per poter velocemente caricare e tenere il controllo dei propri dei propri dati dà anche la possibilità di scegliere la il tipo di licenza da assegnare ai propri dataset vediamo devo farvi vedere il sito di appunto di Zenodo il come vi dicevo è gestito per Open Air che era la struttura di cui abbiamo parlato nell'incontro della settimana della settimana scorsa e che di fatto permette facilmente la ricerca la ricerca di dataset andando appunto a filtrare le diciamo la tipologia di risorsa che state cercando abbiamo al momento in Zenodo più di 50.000 set di dati la possibilità di poterli organizzare tra i più recenti ai più visualizzati ok ne apriamo proviamo ad aprirne uno a caso ecco in questo caso vediamo che praticamente abbiamo dati legati a quelli che sono le visualizzazioni e il download di questo dataset non so di cosa si tratti ovviamente abbiamo anche ulteriori dettagli sulle varie versioni di di sulle visualizzazioni delle varie versioni ok di questi dati la condivisione sui social network il fatto che è indicizzato in open air abbiamo l'identificatore digitale cioè il DOI che porterà al set di standard il DOI page abbiamo appunto il prefisso e il fatto che si tratta di un DOI assegnato da Zenodo keywords si tratta di un come dire un dataset che è stato poi utilizzato per una pubblicazione in POS ONE le licenze agganciate a questo dataset quindi io posso come dire utilizzare questa banca dati secondo questa licenza che è Commons e soprattutto mi dà anche un modo in cui io posso una volta che utilizzo questo questo dataset seguendo la licenza di qui sopra come poi posso in maniera adeguata citarlo e c'è anche il tool per esportare direttamente uno dei programmi noti come EndNote o MandRay il tool citazionale andiamo adesso a vedere come possiamo fare invece un upload una set una volta registrato anche con il proprio Orsid è possibile caricare la cartella di dati che ho l'articolo o questa stessa presentazione proverò come dire magari già stasera posso depositare queste slide all'interno di Zenodo se a quale comunità scientifica internazionale appartengo se appartengo ad una comunità scientifica internazionale qui mi chiede di come dire inserire un DOI se magari come dire sto depositando invece che una presentazione sto depositando un articolo che ho già pubblicato presso un editorio è già un DOI altrimenti chiederò di assegnarmi intanto un DOI fammi assegnare intanto un DOI quindi lo posso fare ancora prima di fare l'upload all'interno di Zenodo della mia presentazione e poi inserire i vari dati descrizione versione lingua keywords indicare quale tipo di accesso voglio dare a questa mia presentazione se un accesso diretto un open access oppure voglio dare un accesso chiuso o un embargo e poi naturalmente indicare il tipo di licenza creative commons che intendo utilizzare si possono depositare i dati di ricerca non soltanto all'interno di un archivio ma anche ad esempio pubblicando su riviste pubblicano descrizioni di dati l'uso di agganciare ad un articolo file supplementari dati supplementari è ormai in disuso perché è buona regola ad esempio depositare i dati in Zenodo e dare in occasione della submission ad una rivista il link a cui l'editor può accedere per poter scaricare il set dei dati in ambito archeologico esistono ad esempio per l'importanza che i dati degli scavi in ambito archeologico hanno esistono delle riviste che pubblicano esclusivamente descrizioni di dati e non solo articoli abbiamo visto che in Zenodo c'è la possibilità di come dire di ottenere dei tool per citare correttamente i dati vi segnalo anche questa guida australiana del National Data Service dove è possibile avere delle indicazioni su come si cita un dato di ricerca che diciamo è che continua ad essere sempre più diffuso come 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 prassi appunto che Web of Science ha realizzato un indice per monitorare le metriche di citazione dei dati proprio perché si osserva la tendenza che invece di pubblicare di citare un articolo che cita a sorta dei dati possa andare a citare direttamente la fonte quindi andare direttamente a citare il dataset in intesi vi lascio questa infografica per diciamo in cui potete ritrovare gli elementi di cui abbiamo abbiamo discusso vi ringrazio benissimo grazie Alessandro c'è magari qualche domanda qualche precisazione Alessandro io volevo chiedere di nuovo appunto forse degli esempi su per esempio se abbiamo un progetto di ricerca come se voglio caricare i miei dati su Zenodo che è un come dicevi appunto gestito dal CERN in Svizzera quindi adatto a noi come trovare la prima cosa secondo me è individuare l'ambito disciplinare di riferimento come dicevo quindi se ti occupi di cosa ti occupi ecco conservazione e restauro esatto quindi immagino ci siano degli standard ok per descrivere le schede di restauro certo queste noi abbiamo già tutto fatto le schede tutti i documenti sono organizzati in delle cartelle ok abbiamo cercato di mettere dei metadati ok la cosa migliore secondo me è seguire il flusso nel sottorializzare il data management plan cioè quindi indicare descrivere ogni ogni elemento ogni item della vostra ricerca poi la cosa migliore è quantificare questi dati cioè di che dimensione stiamo parlando se ad esempio intendete utilizzare un'unica cartella un unico file perché siete sotto ad esempio 50 giga oppure è necessario suddividere se non volete accedere comunque alla necessità di pagare per fare l'upload di dati più di dimensione maggiore a quel punto io realizzerei una una volta che ho realizzato il data management plan andrei a descrivere questi dati c'è un file di istruzioni dei vostri dati come voi li avete strutturati quindi ho fatto una scheda questa scheda ho tot schede alla data di oggi che tipologie di elementi ho inserito come ho organizzato queste schede di restauro o come dire il nome del restauratore o una scheda descrittiva della bottega di restauro o una scheda quindi dare una griglia di per rendere comprensibile il vostro il vostro dato seguendo quella l'indicazione che era più o meno questa qui che a mio avviso come esempio potrebbe essere un buon esempio ecco quindi considerando ad esempio che il progetto si chiama progetto restauro avete sicuramente una proposta del progetto se è stato un progetto finanziato mi immagino la cartella in cui avete inserito il management plan le eventuali pubblicazioni del vostro progetto cioè quello che avete già come dire gli outputs che avete del progetto ma anche una semplice presentazione o come dire un'illustrazione del come dire dello status quo del progetto con i vostri colleghi questo potrebbe finire una cartella e strutturare tutto all'interno di un dataset che si chiama progetto X quindi ecco si carica una cartella non i singoli file su Zenodo per esempio è possibile caricare i singoli file che una cartella contenente file interni d'accordo perché per esempio se su Zenodo stiamo cominciando a caricare dei dati e la prima cosa che abbiamo fatto è stata creare una community quindi SUPSI istituto materiale e costruzione cultural heritage da lì però ho visto che si possono caricare una serie di file però ecco vengono poi pubblicati in ordine in ordine sparso sono tutti abbastanza disordinati questo è un po' bisognerebbe vedere come avete organizzato il dataset ok perché è chiaro che Zenodo vi dà la possibilità come nell'esempio che abbiamo visto di poter accedere vediamo un dataset ok vediamo questo avrà sicuramente diversi elementi ecco in questo caso abbiamo praticamente tre elementi all'interno dello stesso item all'interno dello stesso file di Zenodo quindi con un unico identificatore digitale ora mi sta scaricando 640 mega non so ovviamente che cosa possa esserci all'interno quindi ecco una cartella con più file perché allora se uno può caricare la cartella diventa tutto più facile da organizzare perché io ho la cartella progetto XY e allora metto i dati che voglio che voglio comunque salvare o condividere ma già con un ordine concettuale perché se no se io metto solo il file su Zenodo poi ripescarli con ordine diventa piuttosto difficile considerate che ovviamente ad esempio il formato zip è un formato come dire non proprietario quindi è un formato con cui potete organizzare i dati quindi io potrei mettere zippare una cartella con 50 immagini e caricarlo su Zenodo non avrebbe senso caricare 50 immagini singolarmente ora non so che cosa ho scaricato spero niente di posso fare una domanda scusa perché mentre parlavi sono Cristina Mosca dell'IMC sono collega di Francesca e Giacinta mi è venuta in mente una cosa se si organizzano i dati cioè il dataset come un sito web cioè come pagina web gestita poi internamente tramite intranet poi si potrebbe caricare su Zenodo la pagina web cioè il quando parli di pagina web intendi proprio la pagina web o intendi il database del sito eh non te lo so può dire nel senso che ecco una domanda nel senso che se io gestisco organizzo i miei dati come un sito web no dopo come faccio questo dataset perché se lo condivido con i miei colleghi a cui do gli accessi per cui chi ha la password può entrare per dirti per condividere le informazioni e i dati poi però se voglio pubblicare questo dataset che è gestito come sito come devo fare? Allora è una domanda molto tecnica io ti do una risposta non da tecnico relativamente perché non so come funziona come dire di fatto un database che è dietro ad un sito mi immagino però che se ad esempio il il sito è su una come dire secondo una nomenclatura ecco un mysql o un database come quello che potrebbe essere un database che conosco magari legato a ojs o un journal system io potrei sicuramente depositare i file i file del mio sito in Zenodo e dare le come dire le indicazioni su come poter riprodurre fedelmente il il sito perché io il database del sito l'ho caricato all'interno di 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 Zenodo di Zenodo ok perché è un po' come quello che accade quando ad esempio c'è un passaggio di proprietà no? da un provider di servizi internet ad un altro in realtà tutta la struttura del database con tutte le informazioni i contenuti gli item sono e questo lo sanno però i tecnici informatici io mi prendi un po' impreparato da questo punto di vista sanno sicuramente come questi oggetti materialmente prenderli da un server e 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 l'idea l'idea era appunto quello di farvi vedere diciamo nel caso adesso proprio delle cartelle ecco come questa questa è una cartella di actor 1 ok che all'interno ha diversi file credo siano spero di non sbagliarmi un formato video probabilmente actor 2 e quindi come dire se io vado a scaricare vediamo se riesco questa cartella dovrei accedere probabilmente proprio a queste interviste dopo siamo di sempre di fronte a numeri abbastanza abbastanza ampi in questo caso noi abbiamo praticamente diverse cartelle zippate con migliaia credo a questo punto di interviste di questo dataset su emotional speech and song vediamo se c'erano giacinta ci sono altre domande o qualcun altro ha anche altre domande richieste di chiarimenti io avrei una domanda forse quando finisce non so se sei finito Alessandro questa è la cartella scaricata questa è la datore 1 e questo è dato già così pensando di non caricare il singolo file ma caricando una cartella per progetto almeno questo è più chiaro io invece volevo chiedere un'altra cosa noi registriamo una conferenza legata per esempio alla presentazione del progetto o di approfondimento sul progetto la conferenza la mettiamo di solito su youtube o su un altro canale video e nel nostro sito internet mettiamo il collegamento nella pagina progetto mettiamo il collegamento a youtube ecco in questo caso ha senso o no mettere la conferenza anche su zenodo io assolutamente direi di sì nel senso che nel momento in cui voi andate a depositare un oggetto come quello che può essere la conferenza o un articolo o un qualsiasi altro elemento un output della vostra ricerca intanto state organizzando come abbiamo visto i dati intanto state avendo un identificatore digitale un DOI a quel punto una volta che avete depositato sull'archivio la vostra risorsa a quel punto potete come può fare chiunque altro ok se date una licenza ad esempio aperta attribution come creative commons potete sicuramente prendere questa risorsa caricarla anche su youtube ma soprattutto dotarla di metadati diciamo più utili anche il DOI e anche ad esempio la possibilità di poter accedere magari come dire alle slide che avete agganciato alla conferenza d'accordo quindi tu dici prima passare per zenodo e poi su youtube perché comunque la conferenza diventa qualcosa di diciamo rintracciabile con un suo copyright che invece se uno lo mette su youtube così semplicemente non ha d'accordo grazie mille scusa Alessandro soltanto quindi sempre legato alla domanda di Giacinta il DOI è quello che io ottengo se non vado direttamente su youtube cioè il vantaggio grosso è che c'è allora l'identificatore digitale è sicuramente uno degli elementi più importanti ma soprattutto come dire è un po' complicato avere secondo me una corretta attribuzione di una cosa che hai messo su youtube terzo zenodo non è profit cioè come dire c'è chi immagina di mettere ad esempio molti di voi lo fanno di inserire i propri articoli su research gate o su accademia parliamo di social network che sono di proprietà di grosse diciamo multinazionali le quali comprano di fatto cioè voi date i vostri dati la vostra privacy i vostri contenuti e se andate a leggere quelli che sono i contratti che sottoscrivete quando fate l'iscrizione ad accademia o l'iscrizione al research gate vi rendete conto che di fatto state cedendo una parte della proprietà che avete su questi dati database come zenodo come figshare invece vi tutelano da questo da questo punto da questo punto di vista perché sono database nati per uno sharing della ricerca per una accelerazione della ricerca e quindi il quarto è sei citabile perché se io cito un tuo output di ricerca che è un preprint ad esempio o è una presentazione io posso come reviewer o come editor vedere prima che prima della submission che mi è arrivata del tuo articolo vedere anche l'eventuale gestazione che ha avuto questo articolo e avere una una chiara identificazione della qualità o meno del prodotto che mi stai proponendo alla rivista cioè i vantaggi sono 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 molteplici e regolate da una normativa che è completamente diversa da quella di google per quanto riguarda youtube certo molto interessante grazie mille c'è qualche altra domanda o se no già siamo a un quarto d'ora in più di tempo e forse possiamo chiudere va bene Francesca che dice Alessandro se non ci sono altre domande grazie grazie è stato molto utile davvero grazie a voi ciao ciao a tutti grazie ciao a tutti grazie per la parte nostra e penso ci saranno altri appuntamenti del dipartimento ma per ora open science vedremo magari di ritrovarci poi verso fine anno in occasione della settimana open access è un po' occasione fissa arrivederci a tutti allora grazie mille grazie grazie mille a tutti grazie grazie grazie